Ci troviamo a Roma al Ministero della Salute dove è stato presentato il primo libro bianco sul carcinoma dell'ovaio nell'ambito di un progetto che prende il nome di Cambiamo Rotta promosso da Acto Onlus Ne parliamo con Nicoletta Cerana, Presidente di Acto Onlus Presidente, oggi è una giornata importante, viene presentato un progetto a ombrello che comprende tante iniziative che prende il nome di Cambiamo Rotta Cosa vuol dire innanzitutto Cambiamo Rotta e quali sono le attività che fanno parte di questa bellissima iniziativa? Cambiamo Rotta è un libro bianco con il quale noi di Acto in alleanza con i clinici, società scientifiche in campo oncologico e istituzioni abbiamo voluto fare il punto della situazione sui bisogni della paziente con l'obiettivo di dare un nuovo slancio alla cura del tumore ovarico Dietro questo libro c'è innanzitutto una ricerca che ha interessato 109 pazienti ci sono le storie di 9 donne che raccontano i vari momenti del percorso di malattia e c'è un manifesto che riassume i bisogni che sono emersi dalla ricerca le 9 storie chiaramente non possiamo vedere uno per uno però chi è interessato le potrà trovare sul vostro sito che messaggio danno? danno un messaggio di speranza perché sono 9 donne che sono malate da tempo e di un tumore grave per il quale oggi si vive di più sono donne che parlano della sofferenza ma anche della qualità di vita negli aspetti positivi e della necessità di essere tutti insieme consapevoli in termini di cure e comportamenti se vogliamo da adottare come pazienti comunque di fondo è un libro che in fondo è grande speranza e questa è una cosa che aiuta sempre e invece il manifesto? quelli sono i punti chiave e a chi rivolto? il manifesto si rivolge a tutte le pazienti, alle istituzioni, a tutti coloro che leggeranno il libro e mette in evidenza 7 punti importanti che rappresentano 7 importanti bisogni il primo è più informazione, non più magari sulla malattia che è già conosciuta ma sui centri di cura dove le pazienti devono andare più cure personalizzate che significa aprire i test genomici per far sì che la medicina personalizzata sia una realtà anche nel campo del tumore ovarico più centri specializzati calati in una realtà di reti oncologiche efficienti più tutele da un punto di vista del lavoro più voce alle pazienti perché chi meglio di una paziente conosce i propri bisogni e poi se possibile più diagnosi oggi la diagnosi precoce del tumore ovarico è ancora una chimera e rappresenta forse uno dei bisogni fondamentali e noi ne parliamo ed è uno dei sette punti del manifesto grazie presidente, assoluto grazie per quello che fate per le donne con questo tipo di problema grazie a tutti